Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Ekeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.ekeo.it Buonasera e bentornati su GoGaming. Come ogni volta vi porterò nel mondo dei videogiochi. Siccome c'è appena stato lo scorso weekend, ovvero venerdì, sabato e domenica, la fiera internazionale del videogioco, ovvero il Games Week. E come GoTV non potevamo assolutamente mancare, infatti ci sono delle riprese super interessanti e divertenti che non vi dovete perdere. Questa sera con noi abbiamo Simone, ciao Simone, che è il Marketing Manager di Twizy e il nostro Pierre Rinaldi della Dusty Fly e Sima Bagnatica Bergamo. Faccio una piccola premessa prima di iniziare, che il nostro Pierre ogni volta ci porta vari gadget. E si presenta con la sua bellissima tuta da simulazione e da super ragazza interessata ai capelli non l'ho notata la tua nuova capigliatura. Hai visto? Sì, sì, sì. Poi mai hai deciso di cambiare così? Cambiare, così si cambia. Allora, Pierre, io so che tu sei appena tornato questa mattina dalla Polonia, giusto? Esattamente. E ci sei stato per l'imminente inaugurazione dell'Airbus 320. Bravissima, è una delle novità, che tra l'altro sarà una delle novità proprio del 2022, che sarà questo simulatore Airbus 320, che siamo giustamente, come hai accennato, siamo andati a vedere giusto ieri, abbiamo fatto una tiratona incredibile. Tra l'altro siamo andati proprio con un 320 in Polonia, perché c'è questo produttore famosissimo in tutto il mondo, che produce non solo Airbus 320, ma produce anche il Boeing 737. Ma di Boeing 737 ne abbiamo, ne abbiamo due. Ne abbiamo già anche parlato. Ecco, bravissima. Allora, in qualche modo il 737, che è full motion, che ricordo che siamo gli unici in Europa ad averlo aperto al pubblico generico, avevamo poi questo 737 statico, ma giustamente inutile avere i due aerei, se no diventiamo peggio di una compagnia aerea, che è monomarca. Allora, è stato scelto di prendere proprio un 320 proprio per diversificare il tipologia di offerta, perché poi ci sono appassionati di Boeing 737 e appassionati di Airbus 320, quindi è un po' una scelta per andare a coprire, aprire il ventaglio dei nostri prodotti. E immagino che per l'Airbus 320 non siete gli unici in Italia, o siete gli unici? Allora, non siamo gli unici in Italia, ma siamo tra i pochi in Italia, nel senso che rispetto al Boeing 737 che ci sono vari centri sparsi in Italia, ma tra l'altro la maggior parte sono concentrati aria di Milano, Bergamo, Lombardia, tra Torino e Venezia ce ne sono 7 di centri col 737 statici, quindi non full motion con i pistoni che ricreano accelerazione e decelerazione. Invece l'Airbus 320 effettivamente siamo molto meno, se vogliamo dire un numero, praticamente siamo i secondi, quindi ce n'è solo uno per ora. Infatti abbiamo curato molto il dettaglio di questo nuovo simulatore, proprio perché puntiamo anche al professional, cioè poter preparare i piloti alle selezioni nelle compagnie aeree che hanno l'Airbus 320, e per un'altra cosa abbiamo scelto il 320, perché come tutti nel mondo del gaming ormai sanno dell'uscita che ormai è un anno e mezzo quasi che è uscito Fly Simulator 2020 e l'aereo mobile attualmente fatto meglio per questo tipo di simulatore che ricrea un aereo di linea è proprio l'Airbus 320. Tra l'altro con Fly Simulator 2020 si è aperto il mondo della simulazione di volo, perché hanno fatto talmente una campagna diciamo pubblicitaria su questo simulatore, tra l'altro è anche per Xbox, quindi sono andati proprio anche su una categoria proprio gaming, non solo gli appassionati di simulatore di volo. Era disponibile al lancio sul Game Pass dell'Xbox e questa è stata, secondo me, per Microsoft, una strategia commerciale giusta che tra l'altro ci ha avvantaggiato. Perché? Perché effettivamente ha tirato verso il mondo del volo persone che magari prima non erano particolarmente interessate, sono riuscite. Sì, sì, sì. E quindi il 320 sicuramente serve anche perché metteremo, ecco una cosa che voglio dire, come novità, tra l'altro tra la regalistica di Natale, c'è anche questo corso base di introduzione e familiarizzazione a Airbus 320 tenuto da un comandante istruttore di 320 che collabora con Dusty Fly Sim, proprio per dare quelle informazioni che servono in qualche modo per approfondire di più l'utilizzo di quell'aereo e utilizzare il simulatore non solo semplicemente per una finalità diciamo ludica, ma utilizzarlo con una finalità sempre ludica, ma con una sorta di occhio un pochettino più attento sull'utilizzo, perché è un aereo complicato, attenzione, rispetto al 737 la gestione di un Airbus 320 è molto più complicata. Immagino come per altri aerei ci siano dei pacchetti, giusto? Come abbiamo parlato, anche della regalistica. Per Natale? Per Natale, sì, sì, sì. Allora, in verità... Perché già ricordiamo abbiamo il nostro arretrato, la nostra scommessa che dove... Eh, beh, direi, direi. Ci sono ancora stata. Ecco perché dovevamo fare il volo rovescio, lo devi fare sicuramente, e qualche manovrina. Quello no, non te lo prometto. E poi devi provare a atterrare come Sally nell'Hudson, perché, beh, se no... Infatti un pacchetto per attirare anche i clienti è ricreare l'esperienza di Sally, famoso film, famoso film che ovviamente ha raccontato quello che è successo nella realtà, cioè di questo Airbus 320 decollato dalla Guardia New York, che durante il decollo ha avuto un impatto con dei volatili. E hanno dovuto atterrare... Penti, tutti e due i motori, hanno dovuto, diciamo, ammarare effettivamente nell'Hudson. Quindi è possibile ricreare la stessa esperienza, perché l'aeromobile è identico. In più il 320, diciamo, che è più facile da pilotare da parte del cliente. Anche in un non esperto potenzialmente un 320 lo può portare, proprio perché è una tecnologia completamente nuova rispetto al Boeing 737. Il Boeing 737 considerate che è un aeromobile degli anni, fine anni 60. L'Airbus 320 fine anni, sì, metà anni 80, più o meno. 20 anni di differenza, che sono stati 20 anni di differenza tecnologica. Quindi, diciamo, il 320 dal punto di vista pilotaggio richiede meno sforzo da parte del piloto, dell'aspirante pilota. Mentre il 737 è ancora un aereo molto... È più divertente da pilotare, il 737 è più divertente alla fine. Ma il 320 è più affascinante, proprio per tutta una serie di... Ad esempio, a chi piace la tecnologia, il Airbus 320 è sicuramente il massimo. E quindi per Natale, quindi ci saranno i pacchetti che rispecchiano un po' lo statico del 737. Quindi 60 minuti, 90 minuti e due ore. Quindi ci saranno i coupon per ora, perché, diciamo, le gift box non siamo ancora riusciti a fare in tempo. Poi magari non si sa, i modellini... Vi ricordate che avevo portato... Sì, 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 l'avevi portato a casa. Ecco, ecco. Dicevo appunto, tra l'altro, non ho portato il gadget, ma in verità ho portato le foto che si vedranno adesso. Che sono proprio di ieri, del nostro Airbus 320 che ormai è finito e verrà consegnato penso a dicembre. Quindi tra la regalistica non abbiamo ancora la gift box col modellino, arriverà con l'anno nuovo. Allora faremo solo il coupon, ok? Quindi è il coupon in cui è descritto un po' l'esperienza, in cui c'è un piccolo briefing e poi c'è l'esperienza di volo del 320. Ma sempre riguardo al 320, ci saranno degli open day, ma soprattutto quando fisicamente ci sarà? Allora, quando fisicamente ci sarà, cioè dire la data come l'esperienza anche in passato, potrei dire una data e poi magari non è rispettata. Può arrivare prima come può arrivare poi dopo. Diciamo che il range di tempo in cui potrebbe arrivare, allora quasi sicuramente prima del 10 di dicembre, 15 dicembre, ce l'avremo. No, attenzione, è lì ma non utilizzabile, può darsi, perché dobbiamo fare dei lavori di installazione ovviamente. Dobbiamo anche adattare l'attuale spazio del 737 al nuovo modello, perché è un po' più largo. È un salotto rispetto al 737. Tra l'altro, come vedete sempre, adesso cerco di girare le immagini, abbiamo già creato la nostra compagnia aerea. Infatti abbiamo già creato l'Airbus 320 con il logo Dusty Fly Sim, modello per FS 2020, che abbiamo già, queste immagini che vedete adesso che scorrono, sono la nostra compagnia aerea virtuale e quindi già stiamo solcando i cieli, i cieli virtuali li stiamo già solcando. Per Natale, in più, c'è appunto questa possibilità di regalare questi corsi, questi corsi di approfondimento sull'Airbus 320. Nel pacchetto intendi? È un pacchetto a sé. È possibile? È un corso aperto, attenzione, lo si fa per gruppo, quindi si costituirà un'aula di 7-8 persone, si parte da 7-8, che sono 8 lezioni di teoria di due ore, alcune verranno fatte online, ovviamente, alcune in presenza, perché alcune cose necessarie fanno in presenza. E poi, come equipaggio, perché poi costituiamo questi equipaggi, entrano nel simulatore e fanno un 3-4 ore, diciamo, come equipaggio, dove vanno dall'accensione alla checklist, viene fatto un volo, un volo di trasferimento. Purtroppo non possiamo usare ancora FS 2020, però, per l'esterno, soprattutto per il visual, perché ricordiamo che questi simulatori utilizzano per l'esterno, quindi per l'environment generale, usano dei simulatori classici che ci sono anche da casa, quindi da PC, che possono essere per 3D che della Lockheed Martin, Fly Simulator, X-Plane 11, tutti quelli che possono essere trovati tranquillamente anche nel settore gaming, alla fine. Però, poi, cosa succede? Siccome devono avvicinarsi talmente tanto al professionale, allora c'è un software a sé che va a gestire tutto quello che sono gli schermi, i pulsanti, le emergenze, perché poi è possibile fare le emergenze. Su questo Airbus 320 avremo anche la maschera di ossigeno per simulare la depressurizzazione e il fumo in cabina, che sul 737 non abbiamo. Quindi è davvero rispecchiale. Ma una mia curiosità, perché proprio il 320 e non un altro? Sei viaggiato fino in Polonia per... Sì, perché, proprio perché tra, allora, il 75% delle compagnie aeree europee hanno l'Airbus 320, primo, e non il Boeing 737. Il Boeing 737 è molto diffuso in Stati Uniti. Diciamo, se dovessimo dire una cosa, il 737 lo conoscono tutti per Ryanair, detto chi ha retondo, eh, attenzione. Mentre l'Airbus 320, se vogliamo avere un confronto, anche per chi magari non conosce la tipologia di aereo, nominiamo la compagnia, che così almeno facciamo par condicio, siamo a posto, non offendiamo nessuno. Tipo l'EasyJet, l'EasyJet al 320, mentre... Sì, qua abbiamo rene. Ecco. Proprio perché il 320? Proprio perché è il miglior simulatore che va a rispecchiare quella che è l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Tra l'altro avremo le due versioni, l'Airbus 320 Standard e l'Airbus 320 Neo. Cioè? Giusto? Beh, mi sembrava più che giusta la domanda, Alessandra. E praticamente cos'è la nuova versione? Ad esempio, quasi molti aerei, tipo, così facciano tutte le compagnie, così non lo vediamo nessuno. Diciamole tutte, vai. Eh, tipo la Witzer, ad esempio, quella bellissima col colore viola, eh, ad esempio, ha già in volo degli Airbus 320 Neo. Cosa cambia rispetto al 320 normale? Beh, potenzialmente i motori. Perché, come sapete, gli aerei, la problematica è che, vabbè, inquinano come tutte le cose, ovviamente usano combustibile. Eh, però hanno cambiato, hanno, diciamo, utilizzato delle nuove tecnologie per cercare di essere più efficienti, consumare meno e, ovviamente, sporcare meno, tra virgolette. Invenato. Eh, però le avremo tutte e due le versioni. E questo è importante perché andiamo a contentare tutti i palati. Chi è legato al 320, diciamo, standard, ma come dicevo, il cockpit, quindi tutti gli strumenti sono identici, cambia proprio il modello di volo e cambia la motorizzazione. Ma a livello di prestazione cosa preferisci? Cosa consiglieresti? Beh, allora, se uno vuole effettivamente rimanere allineato alla tecnologia attuale, il Neo, ma alla finalità di imparare a utilizzare l'aereo non cambia niente. Quindi o uno o l'altro è identico. Dipende dai propri obiettivi, da quello che si preferisce, insomma. Brava, sì, e questa differenza è apprezzata soprattutto dai professionisti, non tanto dall'ambiente ludico. Ludico potenzialmente un 320 e un 320 gli va bene così. E si diverte, come dico io, a spippolare, perché poi è un aero da spippolatori. Dovrò passare anche io a divertirmi, a provarli entrambi. Perfetto, così almeno vedete le differenze. Piero, il tempo conto è finito, ma noi ci ritroviamo tra pochissimi minuti e vi aspetto dopo la pubblicità. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali, a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici. Perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta Un servizio chiave in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. NiniVirta.it La scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metratura a Milano? E se intenzionato a venderlo, non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Ekeo Luxury Real Estate al sito www.ekeo.it Ekeo, professionisti al tuo servizio. Bentornati su Go Gaming. Adesso chiacchiereremo un po' con Simone, come abbiamo detto precedentemente, il marketing manager di Twizy, che è una piattaforma che è stata appena conosciuta, giusto? Parecciono un po' come è nata questa idea. L'abbiamo lanciata appunto nel sabato di Games Week, in un evento post-fiera, insieme ad NC, il network che ci ha ospitato allo stand, appunto sempre alla Milan Games Week. Twizy, voi avete già raccontato di Twitch precedentemente in trasmissione, è un'app che lavora su Twitch. In che senso? Nel senso che l'algoritmo di Twitch e il modo in cui è stato pensato Twitch ti propone sempre e solo gli stessi contenuti, soprattutto partner e gente con grossi numeri. Streamer comunque già. Streamer con grossi numeri, anche perché quando tu ti iscrivi ti chiede le tue preferenze, molto spesso gente come me o appassionate di gaming, come preferenza hanno Final Fantasy, Resident Evil, eccetera. Cose che sono streammate forse per due mesi ogni quattro anni. No, ma lo streamer della scorsa settimana infatti ci ha raccontato che riemergere dal nulla, soprattutto quando ci sono questi colossi, non è facile, è difficile sentire. E soprattutto la piattaforma non aiuta. La piattaforma quando si accorge che tu sei bravo, poi ti viene a prendere, però per arrivare a essere bravo devi fare da solo. Assolutamente, quello è sempre merito comunque dei creator che sono comunque molto validi su Twitch. A questo punto noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di creare un palinsesto democratico che racconti minuto per minuto cosa succede realmente su Twitch. Dunque, quando tu approdi sulla nostra piattaforma, vedrai un palinsesto orario di mezz'ora che ti dice in ogni momento chi e cosa sta facendo su Twitch. Quindi io accedo e vedo in tempo reale cosa succede sull'applicazione. La piattaforma è nativa già in tre lingue, spagnolo, inglese e italiano, e ti racconta appunto tutto quello che succede durante la giornata. Ovviamente abbiamo già l'implementazione per oggi, domani e dopodomani sul nostro palinsesto e la cosa bellissima è che tu puoi trovare un power di fianco a te che magari è appena iniziato a streammare e mettere due... Insomma, sì, 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 un... Sì, non è una cosa da tutti i giorni. Non è scontato, trova... Non lo farà mai Twitch, con tutto il bene che voglio a Twitch, perché è comunque un'idea grande. Non è vero? Non è vero così vero? Io li voglio benissimo. E appunto Twitch è nata per questa esigenza, aiutare il customer, il usual customer di Twitch a districarsi in questo mondo molto difficile e a scoprire dei creator che magari hanno meno numeri ma hanno contenuti comunque validi, perché non è detto che chi ha più numeri ha contenuti migliori di uno che magari ha appena iniziato. Magari quel ragazzo o ragazze è conosciuto, ormai piace e quindi viene seguita... Sì, ha sicuramente carisma e simpatia, però il contenuto è un'altra cosa che comunque si può anche andare a cercare. Poi uno in un momento ha voglia di spensieratezze, in un altro momento ha voglia di contenuti approfonditi e noi possiamo offrirgli appunto la possibilità di scegliere dove andare. Ci sono tante voci nuove, valide, che hanno bisogno comunque di essere sentite, soprattutto a chi è appassionato a questo. Assolutamente. E l'obiettivo di Twitch qual è? E' appunto quello di rendere l'utente, di rendere l'esperienza di Twitch agli utenti casual molto più facile e più, come posso dire, emozionante. Perché se tu approdi su Twitch e non sai usarlo, non riesci a capire cosa fare, dopo te ne vai magari dicendo anche che la tua esperienza è stata una brutta esperienza. Invece aiutando l'utente a capire e a comprendere cosa c'è in quel momento e a cercare un contenuto adatto a te, cucito su te stesso, può far sì che tu viva Twitch in una maniera diversa. E magari ti piaccia pure se sei un casual customer, cioè che sei capitato per caso su Twitch. Ovviamente non ci riferiamo ai pro di Twitch, quelli che guardano Twitch tutto il giorno perché quelli sanno muoversi e svicolarsi. Per loro abbiamo un'altra situazione perché abbiamo creato appunto la possibilità di costruire delle streaming list che sono paragonabili alle playlist di Spotify. E praticamente tu decidi quali sono gli streamer che segui. Ovviamente puoi creare più streaming list in base all'argomento, gli streaming list di FIFA, quelli di Fortnite, quelli di Just Chatting, eccetera. E condividerlo su tutti i social con i tuoi amici. Cioè quando io ti chiedo Alessandra, ma tu quali sono gli streamer che segui? E tu mi dici guarda questa è la mia best streaming list ever e me la mandi su WhatsApp, su Facebook o su altri tipi di social e io riesco a riguardarmeli, andare a vedermeli e magari inserirmi qualcuno dei tuoi suggeriti sulle mie streaming list. Ma tutto questo funziona come un abbonamento ovviamente non obbligatorio su Twitch? Funziona così? Allora, la realtà è che se ti iscrivi hai sicuramente dei vantaggi. L'iscrizione è gratuita e le streaming list abbiamo deciso di regalarne, inizialmente regalarle ad avere a disposizione un quantitativo X per poter vivere subito l'esperienza. Poi ovviamente quando uno vuole andare ad approfondire, ad ampliare l'offerta può farlo comunque sempre con microtransazioni perché comunque abbiamo cercato di seguire un pochino il modello che va adesso soprattutto tra i giovani, Fortnite insegna che le microtransazioni sono il futuro e abbiamo inserito questo praticamente. La maggior parte delle nostre offerte sono dedicate appunto alla piattaforma e agli streamer, soprattutto quelli che vogliono farsi vedere e nascere all'interno di questo nuovo mondo. Abbiamo dei pacchetti visibilità tra virgolette che offriamo se allo streamer sta stretto il pacchetto base. Quindi nel caso volessi iniziare tu mi diresti Alessandra, segui... Nessuno è obbligato a pagare nulla, tu potresti iniziare e vieni comunque inserita all'interno del nostro palinsesto. Poi ovviamente se tu hai voglia di dire ma io vorrei stare veramente là in cima sempre per un tot di giorni dove quando la gente entra, apre, mi vede, sono sempre io... Lì poi ne parliamo, cioè ci mettiamo d'accordo e cerchiamo di offrire un'offerta appunto, offrire un'offerta per dire tautologie, offrire un pacchetto che vada a soddisfare l'esigenza dello streamer, perché comunque lo streamer ha bisogno di visibilità, lo streamer vende se stesso, vende un prodotto, vende un contenuto appunto. E noi cerchiamo di forniglielo. Comunque di base la piattaforma è fruibile, godibile completamente gratuitamente sotto tutti i punti di vista, sia da streamer che da customer. Quando poi si va a creare un sistema di gamification appunto per capire, mentre su Twitch sono i follower, su Facebook pure, su Instagram i curicini, mi piace, i like eccetera... Cioè qui ne metto su Twitch, abbiamo... Abbiamo appunto le volte in cui sei stato condiviso nelle streaming list, che è una cosa anche carina, cioè quante volte... Scusami, mi interrompo. Prima lui, non so se tu ci abbia sentito, hai detto che alcune applicazioni sono da boomer. Sì, cioè nel senso... Tu cosa c'entri con Twitch? Dipende. Perché non è da boomer? Perché Twitch lavora su un'app che è Twitch che non è da boomer. Fortunatamente non lavoriamo su Facebook, scherzo, Facebook non è da boomer, non lo ditemi in giro. Eh, più o meno insomma. No, vabbè, sappiamo benissimo che adesso le piattaforme sono molto targettizzate. Sì, assolutamente. Facebook è per le persone che vivono già il mondo del lavoro, perché affluiscono l'applicazione da desktop in maniera... Non è più una cosa istantanea come Twitter, che si twitta al momento. Twitter è una piattaforma che funziona molto all'estero, in Italia funziona veramente poco. Twitter è tra i primi posti in America, perché hanno questa abitudine usata molto... È rapida, subito, qualsiasi cosa stia facendo. È usata anche molto in politica Twitter, rispetto a Facebook e le altre piattaforme. Facebook invece è utilizzata dalla gente che entra nel mondo del lavoro, che la usa per passare il tempo fra una mail e l'altra. Instagram è l'app, ora farò insorgere tutto il mondo femminile, però è un'app molto femminile, è molto seguito dalle donne. Invece TikTok e Twitch appunto sono l'app della generazione Z e delle nuove leve. Sì. Sono molto seguite dai giovani e infatti sono anche quelle più difficili a cui approcciarsi, perché sono quelle di cui le meccaniche sono ancora sconosciute. Perché viaggiano a una velocità talmente elevata e hanno una soglia di attenzione talmente bassa che sono difficili da gestire. Bisogna avere un'idea già per fare del contenuto. E non è neanche detto che quell'idea piaccia, perché magari ti cervelli per giorni per creare un contenuto e fa un flop. Quindi una cosa a casissimo. Sì, filmo te che ti saluto e un milione di views. Fantastico. Ed è una cosa che non si capisce, non c'è ancora una logica o un metro. Non c'è un vero proprio schema. Ovviamente la costanza nei social e per diventare un creator è alla base sempre di diventare una costanza. Tutti a Games Week infatti vi hanno detto costante, 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 costante. Sì, la costanza funzionava su film. Guarda, questi ragazzi che passano ore, sono proprio appassionati, ma giorni e notti ho sentito di ragazzi che aprono le live di notte e migliaia di persone si collegano come se nulla fosse. Sì, sì, sì. Beh, Twitch in pandemia è stata forse una delle poche aziende che è cresciuta, adesso non mi ricordo, era un dato imbarazzante, il 160%, se non mi sbaglio, e ha avuto un incremento esagerato. Assolutamente. E' uno dei motivi per cui abbiamo deciso di aprire l'app, perché sapevamo che andavamo a cascare su un numero esagerato di follower. Twitch prima della pandemia aveva 15 milioni di iscritti, ok? E garantiva ad ogni ora del giorno e della notte almeno un milione di spettatori, almeno un milione di spettatori, da un milione in su. E' la nuova televisione? Quasi. E' una nuova televisione, assolutamente una nuova televisione. Il discorso reale è che si fa senza mezzi, cioè nel senso per fare la televisione, come sapete voi, ci serve una struttura esagerata. Twitch è la qualsiasi parte del mondo, ti colleghi un attimo al telefono, al tablet. Ti faccio notare una cosa allucinante. Twitch, per streamarlo da casa, hai bisogno di un applicativo, di un programma supporto, che potrebbe essere Streamlabs o OBS, per permetterti di andare online. Perché Twitch è nato per andare online solo tramite telefonino. Tu il pulsante live ce l'hai solo dall'applicazione del telefonino. Quando tu accedi da PC non esiste il pulsante live. Quindi non... Non puoi andare live se non usi un applicativo diverso, tipo OBS, oppure Streamlabs, eccetera. Dunque, ti fa capire il fatto che Twitch è nata con un'idea molto semplice e istantanea, molto veloce, come TikTok. E perché è apprezzata dai giovani? Tornando... Non sono giovani. No, non lo dico. Io non voi. Sì, assolutamente voi. Assolutamente. Io te l'ho detto prima in confidenza. Ho rispito caldamente la generazione Z. Quando sento dire ho giocato un videogioco su YouTube, uno della mia età sta morendo da qualche parte. Sì, assolutamente. Ed è una cosa che non sopporto. Io il videogioco me lo devo giocare io. Al massimo, se vuoi, sei tu che mi guardi. E non ti do neanche il pad dopo. Eh, nientelo. Tornando velocemente, perché ci rimane poco tempo, all'apertura di quello che c'è stato un weekend fa, dopo il festival. Come è andata? Come siete stati accolti? Allora, l'accoglienza di Twizy è stata molto positiva. Sì, è molto calorosa, perché comunque tutti hanno percepito l'esigenza e il problematico che Twizy andava a risolvere. Cioè il fatto di staccarsi completamente da una dittatura di suggerimenti dati da una piattaforma ad averla resa democratica. Praticamente trovare, andare e trovare quello che realmente esiste su Twizy in quel momento è una cosa che è apprezzata da chiunque. Perché comunque chiunque soffre un pochino, chi più chi meno, chi meno. I streamer grossi, chi più gli streamer piccolini. Ovviamente quelli. Questa egemonia di suggerimenti. Quando abbiamo fatto l'evento, perché comunque è stato un evento in collaborazione con Ance, il sabato di Games Week, appunto, abbiamo fatto una battle di freestyle, tra cui tra i giudici c'era Shade, i vari capitani delle squadre erano Gaia, Gischianto, Grimbaud che presentava. Ho avuto l'opportunità di chiacchierare con loro velocemente. Sì, loro erano stati appunto gli ambassador di questo evento. La diretta fatta appunto sul canale di Ance Media ha registrato numeri folli, sopra le 3.000 persone mediamente connesse, non picco massimo, dunque in media c'erano sempre connesse più di 3.000 persone. L'accoglienza della piattaforma quando veniva annunciata è stata significativa, perché comunque anche sulla piattaforma abbiamo raggiunto dei dati di connessione durante l'evento, subito dopo molto alti, e siamo rimasti veramente molto soddisfatti e contenti. Infatti vorremmo riproporlo l'evento, magari in altre situazioni, in un altro momento, sempre con ospiti comunque per coinvolgere. Sì, sì, il partner ci è piaciuto e ci ha soddisfatto. È molto interessante. È interessante, sì. Pier, cosa ne hai messi con questo progetto che hanno fatto? No, no, è molto interessante. Assolutamente. Purtroppo il tempo per noi oggi è finito, ma ti riaspettiamo, ovviamente, è vero. Con una nuova capellatura come Pier? No. Certo, certo. I capelli. È più facile lui come me che io come lui. Se mi volete glabro posso provvedere, se invece mi volete capellone dovete aspettare. Vabbè, fa niente. Comunque, grazie mille Piero, grazie mille Simone e grazie mille soprattutto a voi per averci seguito da casa. Ci vedremo nella prossima puntata. Buona serata. Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it